Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ale Bianconero e oggi andiamo a parlare di una notizia molto molto triste, esattamente ragazzi perché come vedete questo uomo qua, ha anche la sua maglia giusto per entrare bene in argomento, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19 ragazzi, esattamente, il giocatore è già stato messo in isolamento quindi non sarà più a nostra disposizione. Il parere di un tifoso di ventino ragazzi, che devo dire? Ve lo ho detto anche negli scorsi video, non è più calcio, non è più calcio ma non vogliono anche stare qua a fare il drastico perché comunque come il Milan è stato senza Ibrahimovic e come l'Inter sarà senza mezza difesa per intenderci noi ne faremo a meno di Ronaldo perché come tutte le squadre si adattano a questo periodo qua anche noi dobbiamo adattarci, però è un campionato sfalsato. È un campionato sfalsato perché comunque ve l'avevo già parlato l'altra volta, ve lo dico anche già adesso. La Juventus che ultimamente, negli ultimi anni dipende sempre da Ronaldo e Dybala, gli togli uno come Dybala e Ronaldo e gli togli uno come Ronaldo è un casino ragazzi, è un casino. Cioè Ronaldo per noi è il goleador, cioè quello che segna più di tutti sarà difficile, sarà difficile perché come abbiamo visto per Ibrahimovic, minimo minimo, ora Ronaldo sarà fuori fino a fine ottobre. A livello di campionato ci va anche bene, puoi mai dire mai perché le partite si devono giocare tutte, però a livello di campionato abbiamo squadre abbastanza abbordabili roba che comunque sia la Juventus, quindi anche senza Ronaldo devi cercare di vincere e sapere gestire se non sbaglio abbiamo Verona, Hellas, abbiamo Spezia e un'altra squadra però abbastanza abbordabili. Per riguardo alla Champions, Ronaldo sicuramente salterà la prima contro il Dinamo Kiev sembra anche in dubbio, non si sa ancora, ma se la guarigione sul Covid che ci metterà un po' di più è molto a rischio anche la partita col Barcellona, sapete? Big match, Ronaldo, Messi, no? Già ci stavamo già immaginando una cosa del genere. Ecco, la prima di andata sembrerebbe a rischio per Ronaldo perché non è detto che recuperi in tempo. Io lo spero perché qua lì è una partita molto importante e uno come Ronaldo lì ci vuole. Poi la Champions lui la sente, l'abbiamo visto anche nelle scorse stagioni speriamo che recuperi in fretta. Dicono che a volte si dice anche che se la si è andata a cercare io penso no. No perché ragazzi, vi spiego, la Juve ha messo Ronaldo in isolamento, no? Diciamo, l'aveva messo in isolamento e la Juventus aveva proibito al giocatore che se poteva era meglio che non partecipava alla convocazione della Nazionale per la National League perché comunque con questo periodo qua, con i tempi che corrono c'è il rischio che comunque lo va a incontrare, no? questo Covid-19. Ronaldo succede le furie e dice di no, vola in Portogallo, ha fatto recentemente la partita con la Francia e dopo la partita con la Francia è stato positivo al Covid. Tutti danno la colpa a Ronaldo, non tanti tifosi di casa tipo noi, i Juventini, ma anche i tifosi avversari dicendo che comunque è stato un egoista, che è stata la zappa sui piedi da solo, che se l'hai cercata. Tutto quello che volete ragazzi, è vero, poteva anche evitarla perché comunque la National League a noi uno come Ronaldo ci serve tanto, ma è Cristiano Ronaldo sappiamo benissimo Ronaldo quanto ci tiene alle partite, lui ama il calcio, dà tanto, dà tutto per la squadra con cui gioca, quindi la Juventus, e a maggior ragione dà comunque tanto e dà tutto per la Nazionale, per la squadra dove lui è nato, per il Portogallo, è normale ragazzi cioè come lui dà tanto alla Juve, è normale che vuole dar tanto anche alla sua Nazionale quindi lui ha fatto il suo dovere da calciatore, è affezionato alla maglia, alla Nazione ed è andato ad onorare i suoi colori, questo voglio dire io, la sua Nazione poi che sia stato sfortunato, abbia preso il Covid, quello ok, ora noi c'eravamo un po' nezza le chiappette perché comunque uno come Ronaldo non lo sostituisci però comunque sei sempre la Juventus, anche senza Ronaldo devi cercare di reagire e portare a casa dei punti, perché comunque finché non avevi Ronaldo negli anni scorsi la Juventus è arrivata per due volte in finale di Champions, quindi non è che adesso siamo Ronaldo dipendenti lo sembriamo negli ultimi anni ma non lo siamo mai stati quindi niente ragazzi, io lo giustifico, lo giustifico, secondo me è giusto che abbia partecipato alla National League, come comunque hanno partecipato i nostri gioi, i nostri ragazzi l'Italia recentemente con la Polonia, che anche loro sono a rischio, tutti sono a rischio quindi Ronaldo, anche se sei Ronaldo, ti abbiamo fatto bene ad andare perché comunque ha risposto alla convocazione poi che ora lui sia positivo, quello lì è un altro discorso eh ragazzi, ne faremo a meno però ripeto, per chiudere la frase, non voglio essere ripetitivo ma non è più calcio è un campionato sfalsato vincerà non il più forte vincerà chi magari ha avuto meno positivi influenti nella squadra per me è così niente ragazzi, se comunque il video vi è piaciuto anche se per noi Juventus non è un video piaciuto per niente c'è una notizia che non fa bene a noi lasciate un bel like commentate se va, fatemi sapere un po' per i Juventini come me, se siete disperati se sono disperato un casino per Ronaldo cosa ne pensate come giocherà la Juve senza Ronaldo se riuscirà a portare a casa a qualche punto e soprattutto ragazzi iscrivetevi anche al canale noi ci vediamo domani con l'Italia che giocherà contro l'Olanda sempre in tema nazionale visto che si parla ok? Bella ciao 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 ciao